Grazie Presidente, io comunque volevo intanto ringraziare le opposizioni che comunque partecipano e in ogni caso condividono questa scelta che io credo sia sagrosanta perché comunque Roma sia per la posizione geografica che ha ma anche proprio per la sua centralità internazionale. È un lavoro che tra l'altro stiamo facendo anche con la Commissione, quella di cercare di rilanciarla a livello internazionale e devo dire che le varie ambasciate rispondono positivamente, poi alla fine è un po' il centro di tutti. Quindi anche poi ovviamente per tutto quello che ha già detto lei Presidente spiegandone la centralità io credo che sia sagrosanto. Voglio tranquillizzare sul fatto che ci sarà l'impegno di tutti per fare in modo che questa cosa vada avanti un po' su tutti i gradini istituzionali che deve portare avanti. Quindi sicuramente ci saremo e ci saremo in prima linea tutti quanti e magari anche con il vostro spero appoggio. Grazie, comunque voteremo sì ovviamente.